È Alessandra Albarelli, responsabile Area Congressi di Riva del Garda e Fiere Congressi SPA, la nuova presidente di Feder Congressi and Eventi, l'associazione nazionale delle imprese e dei professionisti dell'industria dei congressi. Ad eleggerla sono stati i soci riuniti a Riva del Garda per la decima convention nazionale che si chiude oggi. Alessandra Albarelli vanta una consolidata esperienza nell'ambito del marketing di destinazioni e di centri congressi. Dal 98 al 2010 ha ricoperto la carica di direttore del Consorzio Verona Tutti Intorno, di cui è stata anche socio fondatore e dal 2012 è responsabile Area Congressi di Riva del Garda. Commenta soddisfatto il presidente di Riva del Garda e Fiere Congressi SPA, Roberto Pellegrini. La nostra società è orgogliosa della nomina di questo nostro dirigente alla carica più alta dell'Associazione Nazionale dei Congressisti, una nomina che si affianca a quella di Giovanni Laezza, direttore generale della società di Riva del Garda, ma anche vicepresidente dell'Associazione degli Enti Fieristici Italiani, a conferma del valore del ruolo che Riva del Garda ricopre nel settore nazionale congressuale.